ho fatto durante uno dei tanti innumerevoli sconti che fanno perlomeno l'ho fatto un po di tempo fa dunque quasi due mesi e dunque non mi ricordo sinceramente scatoline classiche di pandora non mi ricordo si regalavano qualcosa vabbè fatto sta che o se c'era lo sconto del 30 per cento comunque un 3x2 ci arma di paperino infatti mi ricordavo di di averlo ma non lo trovavo su nessun bracciale perché stava nella scatola per essere tirata il filmato questo che stupendo un pochettino si riesco a toglierlo questo è meraviglioso non mi ricordo come si chiama però è meraviglioso metterlo sul mio bracciale quello con i personaggi della disney poi questo con i fiori bianchi che è uno stopper c'è uno stopper buonanotte un vabbè insomma adesso non mi viene il nome comunque che duro e poi per ultimo paperina infatti mi ricordavo di averli non li trovo forse non li ho comperati forse me lo sono sognato se se certo me lo sono sognato paperina questa che è meravigliosa che bella è sto morino e poi paperino problema è che i bracciali disney è già pieno perché questo qua che è su lumiere vuto vediamo un po' sebastian che l'ho comprato in tempi recenti olaf il vestito di anna la stessa murina per la serie mi piaceva comunque ho comprato un'altra bene giusto per non duplicarsi pesciolino la nota musicale questa murina la potrei mettere un altro posto se no non tolgo una di queste qua mi piaceva proprio evidentemente babini adesso poi mettiamo in un bracciale e questo è l'acquisto di pandora fatto in non mi ricordo sinceramente quando l'ho fatto direi una balla faccia la notizia la notizia la notizia è e